Viviamo in un'epoca un po' strana, in cui sembra che le macchine fotografiche e le videocamere siano destinate a scomparire per lasciare posto unicamente agli smartphone che tutti quanti possono sempre portarsi dietro nel taschino. In questo difficile scenario sembra che le apparecchiature da ripresa un pochino più professionali siano ormai a pannaggio più dei creator che fanno contenuti piuttosto che delle persone normali. E ora l'introduzione delle intelligenze artificiali mina l'utilizzo di queste tecnologie anche per i comparti un pochettino più professionistici ed evoluti. Ecco che in questo difficile scenario Canon Canon introduce la nuova Powershot V10, un device molto interessante che viene presentato come macchina da vlog. Ne parliamo nel corso di questo video. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e anche oggi mi sono occupato tutto il giorno di fotografia e videomaking per tornare a casa e scoprire che Canon aveva lanciato un nuovo prodotto di cui non sapevo assolutamente niente. Per cui eccomi qui in fretta e furia a studiarmi le caratteristiche di questa nuova simpaticissima camerina e ve ne parlo nel corso del video. Se contenuti di questo tipo vi dovessero interessare, io vi ricordo se non siete già iscritti che potete farlo subito cliccando il bottone qui sotto e se attivate anche la campanella siete sicuri di non perdervi i prossimi contenuti. Andiamo a incominciare. Canon Powershot è la linea di fotocamere compatte della casa nipponica a cui siamo piacevolmente abituati per esemplari come per esempio la G15 oppure la G7X. Sono fotocamere in un certo qual modo compatte, quindi sono delle fotocamere tascabili da tutti i giorni, non sono dichiaratamente professionali anche se sono dei device che comunque al professionista piacciono. A me personalmente piacciono molto perché sono molto piccole ma al tempo stesso abbastanza potenti, quindi ci permettono di fare delle cose. Sono le compatte evolute che un professionista va di solito a scegliere perché il professionista non vuole il cellulare e non vuole neanche una compattina di quelle proprio point and shoot completamente automatica. Quindi questa è una linea che io ho sempre trovato interessante, la G15 l'ho semplicemente adorata e le versioni successive mi sono comunque piaciute. Questa nuova versione della Powershot non è una compatta, è qualcosa che somiglia secondo me molto di più a uno smartphone, infatti ha delle caratteristiche di portabilità estrema. Come visto nello spot proprio di Canon è un device che sta comodamente nel taschino dei pantaloni, ha una serie di caratteristiche che la rendono al tempo stesso moderna e perfetta per i moderni creator. Al di là della portabilità abbiamo infatti un sacco di compatibilità bluetooth e wireless quindi possiamo farla scattare, attivarla e comandarla direttamente tramite app dal nostro smartphone. Abbiamo un treppiede incorporato quindi questo è potenzialmente un device stand alone che noi possiamo mettere dove vogliamo e orientarlo un minimo per avere la ripresa ottimale. Ora vi dico una cosa, questa è una cosa che secondo me non sta né in cielo né in terra perché io avrò sempre bisogno di un treppiede per potermi mettere e fare le mie riprese come cavolo dico io, però diciamo che questa macchina ci offre un minimo di versatilità, cioè non siamo più costretti ad andare in giro col sacco di fagioli su cui appoggiare la videocamera, quantomeno. Possiamo metterla su una superficie solida e orientarla un minimo per fare l'inquadratura senza dover per forza portarci dietro uno zaino su cui posizionare le cose, questo va detto. Caratteristiche molto interessanti di questo device sono ovviamente l'ampissimo grand'angolo da 19 mm che diventano 24 nel caso attiviamo lo stabilizzatore, stabilizzatore che serve se facciamo delle riprese camminando con la fotocamera in mano, quindi nel momento in cui camminiamo e vogliamo la stabilizzazione che è solamente elettronica abbiamo un crop e quindi da 19 mm si passa a 24. Questa visuale così ampia ci consente di fare delle riprese in cui inquadriamo noi stessi senza dover stare così con la mano in avanti ma possiamo stare più comodi e avere comunque una ripresa ottimale con un angolo di campo ottimale. Un'altra cosa molto interessante è il comparto stereo perché questa fotocamera ha ben tre microfoni per cui ha due microfoni per avere l'audio stereo, dopodiché c'è un terzo microfono che serve per la soppressione del rumore. Questa è una cosa molto interessante perché di solito queste camerine peccano proprio in questo, hanno un audio che tira su un sacco di ambiente ed è sempre molto sporco. Sono curioso di provarla, ovviamente negli spot sembrano dei microfoni Neumann da migliaia e migliaia di euro, sono curioso di testarla sul campo per vedere come rendono effettivamente questi microfoni. Bisogna capire la direzionalità, la distanza ottimale di ripresa, sono tutte cose da sperimentare, ovviamente non saranno perfetti, però è comunque una feature molto molto interessante soprattutto per quelli di noi che fanno vlog tenendola in mano, quindi ce l'hanno abbastanza vicina e quindi l'audio dovrebbe essere abbastanza buono. Ulteriore cosa interessante, il sensore, che è un sensore da un pollice con, se ho capito bene, 13 megapixel, mi correggo, 13.1 megapixel per i video e 15 megapixel per lo scatto di fotografie, quindi non ne ha tanti e anzi diciamo pure che ne ha abbastanza pochi. È paragonabile a quella di un telefono cellulare, però la differenza è che il sensore non è quello di un cellulare, quindi abbiamo i megapixel di un cellulare ma il sensore è molto più grande e quindi con un sensore di questo tipo abbinato a un numero di megapixel non troppo alto abbiamo una ripresa che potenzialmente rende molto molto bene anche a bassa luminosità. E infatti ecco che con un'ottica da f2.8 pare, dalle immagini che ho visto in rete, che siamo in grado di tirare giù delle immagini abbastanza nitide, abbastanza dettagliate e non troppo rumorose anche in condizioni di alti ISO, in condizioni di luminosità scarsa. Questa è una cosa molto interessante perché tutte le GoPro del caso, tutte le DJI Osmo Pocket del caso, tutti gli smartphone del caso, per quanto mi riguarda la pecca principale che hanno è proprio questa. Di giorno quando c'è il sole, quando fanno vedere gli spot di un nuovo cellulare, di una nuova fotocamera compatta, vi fanno vedere le immagini sul monte bianco, col sole della gente che scia e cavolo ma lì con tutta quella luce qualsiasi macchina lavora bene. Invece nel momento in cui abbiamo una macchinina anche economica che riesce a lavorare bene in condizioni di luminosità scarsa, ecco che la cosa diventa molto interessante perché a quel punto potrebbe essere la perfetta camera di tutti i giorni per fare vlog anche in condizioni in cui la luce non sia proprio ottimale. Ovviamente abbiamo il sistema di messa a fuoco Canon e quindi avremo riconoscimento del viso, magari anche il riconoscimento del viso da molto lontano, quindi abbiamo tutta una serie di... diciamo che è molto automatica, è molto automatizzata. La cosa che mi è piaciuta è proprio questa. Al di là dei microfoni che ha impiantati sul body ha anche la possibilità di ricevere un input da microfoni esterni e questo la rende veramente perfetta per fare vlog perché è veramente plug and play. Attacchiamo il nostro microfono, la facciamo partire e fa tutto da sola e abbiamo i nostri filmati in 4k con il nostro 19 mm con una qualità che secondo me sarà all'altezza delle aspettative della rete, quindi ovviamente non possiamo pensare di riprenderci in una stanza con le luci spente e sperare che venga fuori una figata. Però all'aperto non abbiamo problemi, in una condizione di illuminazione media dovremmo comunque riuscire a tirare fuori una ripresa assolutamente spendibile su tutti i social media compreso YouTube. I pulsanti sono veramente ridotti al minimo e questa è una cosa buona secondo me perché su un oggetto di questo tipo, questo non è un oggetto full professional, è un oggetto consumer che ammicca i content creator, quindi secondo me qui la velocità è premiante, il fatto di avere pochi bottoni è premiante, questa è una cosa che tu l'accendi, la fai partire ed è pronta da sola senza stare a fare grosse regolazioni, senza stare a preoccuparsi eccessivamente e questa è la cosa buona. Ora prezzo di lancio mi sembra di aver capito che si aggira intorno ai 400 barra 500 euro accessori a mio parere indispensabili che ho visto abbinati a questo oggetto sono la cage di small rig, in questo momento io sto usando la cage di small rig per Canon EOS R7 di cui vi ho già parlato in un altro video che vi lascio in descrizione, small rig fa dei prodotti che sono veramente fantastici perché consentono di attaccare delle cose al nostro corpo macchina, il corpo macchina nativamente non ha tutti gli innesti necessari, tutte le hot shoe e le cold shoe necessarie ad attaccare cose, le viti necessarie a attaccare cose ulteriori. Con questi piccoli accessori noi siamo in grado di aumentare la nostra potenza di fuoco nel momento in cui stiamo andando a lavorare, in particolare la cage di small rig ci permette di attaccare i gatti morti, quindi gli attenuatori di rumore per quanto riguarda il vento, possiamo mettere i dead cat sopra i nostri microfoni così abbiamo una ripresa pulita anche quando siamo all'aperto e c'è vento, possiamo usare la slitta per mettere la nostra v10 in verticale, quindi fare le riprese verticali, se siamo a mano libera basta che la giriamo e lo facciamo anche a mano, però se siamo su cavalletto dobbiamo usare una staffa L per farlo, invece con la cage di small rig che costa, me lo ricordo cosa costa, 50-100 euro di più, una cosa del genere, insomma non uno sproposito, con quella cage riusciamo a agganciare la staffa anche in verticale per le riprese verticali e ci avanza anche lo spazio sulla staffa superiore per attaccare la slitta di un microfono o una luce o un altro accessorio a nostro piacere ovviamente non ne ho ancora parlato monitor tiltabile, quindi possiamo utilizzarlo sia per fare riprese avanti a noi, sia per girarlo e fare riprese indietro verso di noi, così possiamo sia vloggare sia far vedere avanti, questa è un'altra cosa ormai indispensabile su un device di questo tipo probabilmente ci saranno dei meccanismi di connettività per cui possiamo passarci i materiali girati direttamente sul telefono cellulare per la condivisione rapida la memory card utilizzata è una micro sd, questa è una cosa buona perché le micro sd hanno un costo ridotto quindi andiamo a utilizzare una memory card che non ci ammazzerà al portafogli altra cosa molto molto interessante, questo è un device che arriva già pronto per fare diretta streaming quindi queste sono cose interessanti, io come sapete non faccio dirette streaming perché io quando riesco, quando ho tempo mi preparo gli argomenti quindi preferisco leggermi due cose e poi mi accendo la mia camera e faccio un video in un momento che trovo in cui sono tranquillo riposato e lo posso fare non sono riposato per niente, adesso sono stanco morto però lo sto facendo lo stesso però ti ho capito cosa voglio dire con un device di questo tipo io potrei, che ne so, sono in macchina, sto andando al lavoro adesso mi arrestano, però metti caso sono in macchina, me la metto lì con una ventosa sul cruscotto e faccio una diretta mentre sto andando al lavoro in macchina cioè diventa una cosa interessante, capito? perché apre nuove prospettive anche per chi prima magari non aveva il tempo di farlo pensateci, io sono un professionista, lavoro, faccio le mie cose, sono stank non c'ho voglia magari di mettermi la sera come sto facendo adesso, adesso è sera non c'ho voglia di mettermi qui a fare un video perché sono stanco però al lavoro ci devo andare ed ecco che se tu mi dai un device con cui io posso farti una diretta streaming mentre sono in macchina ovviamente devo stare attento a non distrarmi però insomma guardo avanti e intanto parlo e quindi posso fare una cosa che prima non potevo fare posso fare una diretta streaming che magari magari posso anche non pubblicarla subito magari posso farla uscire dopo, la registro in macchina, la faccio uscire dopo insomma ci apre nuove possibilità, nuove prospettive questa cosa la trovo interessante poi sulla qualità effettiva di questo nuovo device ci pronunceremo quando ne terremo uno in mano io non vi dico che mi fiondo a comprarla perché non è vero perché quest'anno ho promesso che non compravo niente per quanto riguarda le fotocamere ho deciso di farmi bastare quello che ho perché veramente ho tutto quello che mi serve quindi non dico che mi fionderò a comprarla però se mi dovesse capitare di tenerne una in mano o di avere sotto mano dei file d'uscita di questa fotocamera farò un video aggiornamento proprio per questo motivo vi invito a iscrivervi al canale perché altrimenti vi perderete questo contenuto di aggiornamento che pubblicherò forse chi lo sa più avanti però insomma non lo saprete mai se non vi iscrivete adesso lasciate anche un like a questo video se questo piccolo aggiornamento ha destato il vostro interesse signori grazie di aver passato un po' del vostro tempo con me e io vi do appuntamento al prossimo video grazie a tutti